Ho soltanto l'esperienza, visto che sei molto giuro. Penso che devo prendere un po' di esperienza, perché anche questo è il primo anno della Lega Pro, tutti i campionati sono diversi, penso che devo lavorare in aspetto tecnico e per leggerla la partita. Te lo dico sottovoce, prima Trumbo mi ha detto, è stato un miracolo che il palmo l'abbia tenuto in mezzo. Il palmo l'abbia tenuto nel mercato, come si è andato via, è vero? Però è tutto molto. E lui è l'esperto nel mercato, diciamo, di bascora. Mi ha detto, Zongras è molto avvito da tanti club, però è rimasto a palmo, vuol dire che se vuole andare avanti. Io volevo stare qua perché è piaciuto l'anno qua e... Sembro che sono uno parvigiano. Magari non parlo italiano come vuoi, ma... Magari non parlo italiano come no, come no. C'è una cosa da mio cuore e adesso... Adesso dopo il cuore te lo svegliamo dopo perché c'è... Parole svegliamo dopo il mercato. Ma te c'è stato qualcuno in Stato? E beh, squadra, io ho appena detto, perché tu mi hai detto... Sì, però le insonanze di effetti di squadra che... Non lo so, vale più di mille parole. Andiamo avanti con gli interessanti. Sì, allora... Grazie.